allora tutto il giorno che si raccolgono bei funghi ne allora siete pronti io non ci sto più dentro ragazzi io quasi mi metto a piangere io quasi mi metto a piangere quasi mi metto a piangere preparatevi tenetevi forte quasi mi metto a piangere mamma mia io quasi mi metto a piangere ragazzi io mi metto a piangere ragazzi non ce la posso più fare dopo una roba del genere dopo una roba del genere signori mamma mia mamma mia seminati seminati che goduria ragazzi no no questo è il regalo della giornata ciao ragazzi che emozione grazie